La leggenda racconta che Venere si addormentò di fianco a un ruscello. Questo ruscello si ghiacciò e rimasero intrappolati i capelli della dea. In realtà quello che vedete è un quarzo rutilato, però la storia è bellissima perché dà proprio l'idea di questi capelli biondi, ramati, rimasti intrappolati nella roccia. Questo è quello che raccontavano i greci. Infatti il nome comune di questa pietra è Capelli di Venere. In realtà, come vi dicevo, è un quarzo rutilato. Questo arriva dal Brasile. Era un pezzo molto più grosso e grezzo e Giorgio lo ha tagliato e lucidato. E poi noi lo abbiamo fatto montare dal nostro maestro orafo Stefano. Dizia che la mia mano però gli fa l'ombra. E' montato in argento, 9,25, rodiato. Grazie.